Guardi come adesso, come adesso qua, questo è un video che ho visto il titolo montaniero su Minecraft Gameplay 1 Perché si radiazzi il mio primo gameplay Perfetto Siamo su Minecraft, sull'iPad E ora possiamo andare a costruire le nostre super montagne rosse Le costruisco là sopra E le facciamo scendere fino giù Saranno 18 o più se esistessero veramente queste cose A parte il pisellone però Ed eccoci qua Cominciamo con la costruzione Non cadiamo di sotto Lo tranciamo un po' all'erba Aspettate che metto una torcia Perfetto Ok, andiamo a costruire le montagne russe Maledetto Se non costruiremo le montagne russe Andiamo, io mi giro Così Così Facciamo le battiglie da qui Grande Facciamo le battiglie da qua Facciamo scendere Facciamo un coso Spenderemo un po' all'erba Spenderemo le ferrovie Spenderemo un po' all'erba Spenderemo un po' all'erba Spenderemo un po' all'erba Spenderemo un po' all'erba Io faccio cosi Facciamo qui un po' all'erba di passare nel vuoto facciamo un pochetto nel vuoto queste montagne russe non ci salirà nessuno ok, ora ne mettiamo una qui questo video è da 3 minuti e 55 che sto registrando ora cominciamo a... oh è giorno al vuoto, questo lo mettiamo qui adesso facciamo la discesa pian piano lo facciamo andare su lo facciamo andare su quel coso lo facciamo andare su quel coso pian piano lo facciamo scendere ah scusate, è meglio fare così, guardate questo coso lo giriamo verso di qua questo lo facciamo girare così, mettiamo sempre questo coso lo mettiamo qui e lo facciamo arrivare qui ok, cominciamo a mettere i pezzi continuiamo a mettere i pezzi questo qui, questo qui togli ti erba, albero, quello che sei quanti ce ne stanno perfetta così così siamo arrivati qui poi gira qui e cominciamo a farla scendere così abbiamo una visuale più più bella qua ne di gradino un po' ripido scusate che mettiamo qui ecco qui non so se è qui però va bene la facciamo scendere da qui dal un cosa di questi scusate queste montagne lusse comunque sono fighissime 10 le do 10 le do 11 le do don't smile a little smile for me eccoci qua ne mettiamo un altro così mettiamone un altro mamma mia queste montagne ruse sono proprio così siamo arrivati alla montagna e da qui lo facciamo l'altro scendere a 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 mamma mia ho però ci sto mettendo ora ok sui 12 5 secondi che sto registrando 5 cioè questo così questo lo facciamo andare di qua questo lo facciamo andare di qua questo lo facciamo andare di qua scusate un attimo questo poi lo facciamo aspettate devo bloccare un attimo ok ok